Patriarca in battuta, ricezione di Russo Pajovic all'indietro per il tocco morbido di Beretta il tuffo di Patriarca a salvare, Papi col piede, che salvataccio Papi ma la palla ancora in campo di Monza Veres, palla a terra, applausi del pubblico ma tra gli applausi ci sono anche quelli per la gran giocata di Samuele Papi Grazie